TG2 con le ultime notizie. In prima serata su Rai 2, a cura delle TG2, trasmettiamo uno speciale dedicato alle primarie del Partito Democratico 2012. La domenica sportiva condotta da Paola Ferrari conclude la serata. Arrivederci e buona domenica sera con i programmi di Rai 2. La domenica sportiva condotta da Paola Ferrari.